Proseguono le iniziative dello Sportello Universo Donna, siamo in compagnia di Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'Associazione Stella Maris. Vi occupate di arte e coinvolgerete le donne in attività artistiche appunto. Sì, l'Associazione Stella Maris si occupa di promozione culturale e quindi abbiamo organizzato tutta una serie anche di mostri, di pittura, di scultura e abbiamo pensato di utilizzare questo strumento nell'organizzare dei corsi all'interno dello Sportello Universo Donna perché possa la donna tirar fuori facendo un percorso artistico tutto ciò che è di buono alla ricchezza che comunque ha dentro. Oggi chi incontriamo? Carmela Sorrentino, scultrice. Professoressa Carmela Sorrentino, docente di storia dell'arte, nonché scultrice. L'importanza per la donna di realizzare qualcosa proprio in ambito scultoreo? Non è difficile perché l'arte è a portata di tutti. Tutti siamo artisti, non deve spaventare l'idea che sia o pittura o scultura. E la manipolazione della materia è questo l'importante. E quindi noi dobbiamo impossessarci della materia. Forse diventeremo più forti proprio attraverso la manipolazione della materia. Cioè farla sottostare alla nostra volontà. Scultura può essere una parola grossa perché adesso anche la pittura è scultura. La pittura è diventata scultura da quando Picasso ha introdotto il cubismo. E quindi ha usato nel periodo sintetico, ha usato la materia anche sulla tela. E ancora oggi, oggi soprattutto, si fanno questi lavori con materiale di diverso tipo. O appunto sulla tela, oppure assemblandolo in modo libero, o usando invece i classici materiali come per esempio l'argilla, oppure il gesso. Io non parlerei di marmo perché diventerebbe una cosa un pochino più complicata. Però la materia qualsiasi, assemblata, è già scultura. Quindi impossessiamoci di questa materia e facciamola come usiamola a nostro piacere.